buongiorno a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv siamo qui stamani con uno scrittore molto benvenuto sui nostri schermi Mario Iannacone buongiorno Mario buongiorno grazie che ha appena scritto uno dei suoi tanti libri che si intitola la fuga io vorrei partire però dalla libertà negli ultimi due anni e mezzo tre i governi di gran parte del pianeta hanno limitato le libertà dei cittadini in modo piuttosto significativo in cambio dell'obbedienza diciamo e hanno introdotto questo concetto Mario proprio il concetto della libertà come merito in cambio di un comportamento secondo loro corretto ora quello che volevo chiederti che cos'è secondo te la libertà e quella che avevamo prima della pandemia era è corretto definire la libertà beh allora si potrebbe partire da quello che viene sancito da moltissime costituzioni o carte costituzionali di vario tipo in giro per il mondo per cui la libertà è la libertà per un essere umano di potersi muovere di poter esprimere le proprie idee entro certi limiti accettabili dalla società ma comunque di poterle esprimere di comprare di vendere utilizzando degli strumenti che non siano sempre totalmente tracciabili ma non perché qualcuno faccia necessariamente qualcosa di illegale ma semplicemente perché è un diritto avere la privatezza che oggi si nota si traduce con privacy e quindi di poter esprimere la propria sfera umana nella tutta la sua complessità ora prima del di questa crisi questa trasformazione voluta indotta criminalmente indotta godevamo di una libertà anche lì condizionata io personalmente negli ultimi vent'anni ho cominciato a entrare in una fase di allarme senza diventare paranoico quindi vivendo sempre serenamente però una fase di allarme nel senso che mi rendevo conto che le libertà soprattutto di espressione andavano restringendosi sempre di più questo possiamo anche dare una data fatidica che è il 2001 e probabilmente esattamente si va anche un po' più indietro ma quella è una data simbolo quindi ora ora siamo in una fase nuova incognita che viene gestita da dei gruppi di potere chi si è svegliato diciamo lo vede chiaramente ecco quindi la libertà adesso io ho dato non un senso filosofico ampio al concetto di libertà ma è una libertà ho dato come dire una definizione costituzionale normale ecco e questa non c'è più questo è il problema verso che genere di libertà vanno i protagonisti del tuo libro allora io siccome ho io ho una formazione storica quindi ho scritto libri di storia anche contemporanea anche piuttosto vicini a noi e ogni tanto mi piace anche insomma scrivere romanzi ma per cercare più che altro di immaginare le situazioni che si descrivono nei libri di storia nella loro quotidianità e verso che tipo di società vorrebbero farci andare perché poi è tutto da vedere visto che non è detto che questi progetti vadano in porto verso una società è stato detto molto bene una società del controllo il capitalismo del controllo non è stato chiamato da libero di shoshan zubirov e quindi di meriti e crediti che si guadagnano in base a ad esempio quello che si fa nell'ambito della emissione di CO2 perché si fa ridere ma molto rientra in questo in questo concetto quindi se uno inquina di più se uno si comporta male sono riscalda troppo la casa poi questo troppo è da vedere potrebbe rientrare in classi di merito inferiore ora questo da noi comincia ad essere introdotto lentamente con un'intelligenza devo dire mefistofelica in certi casi perché i popoli europei non sono abituati a questo altri popoli come i cinesi per la loro cultura sono più abituati a forme diciamo di controllo sociale che loro stessi attuano confucianesimo un pochino a questa questa caratteristica e quindi probabilmente sarà più facile introdurlo lì qui da noi lo si fa con la violenza quindi creando delle crisi artificiali delle pandemie che hanno molto di sospetto e adesso con questa crisi energetica che anche questa indotta anche questa voluta anche questa basata su speculazioni no causata da speculazioni che ti porta appunto ad un sistema di crediti di fatto e di debiti che diventeranno sempre più evidenti temo poi bisognerà vedere la sostenibilità economica di tutto questo perché loro ci stanno provando di tipo loro insomma sono i gruppi di potere che si concentrano attorno al World Economic Forum perché lì emergono visibili sono circa mille cento aziende fra le più grandi del mondo però bisogna vedere se tutto questo potrà essere sostenibile anche dal loro punto di vista perché le infrastrutture che devono reggere tutto questo sono costosissime ed energivore parliamo soltanto dei delle colonne dei pilastri 5g infatti infatti hai nominato il World Economic Forum e non so se sei d'accordo ma io l'impressione che stiamo attraversando una transizione che è epocale in questo momento e fra l'altro è stata velocizzata dalla pandemia dalla dichiarata pandemia ma è iniziata prima ed è stata descritta anche dal libro di Schwab la rivoluzione industriale e poi anche l'altro libro come gestire la quarta rivoluzione industriale la quarta rivoluzione industriale c'è ecco sei partito da da lì o da dove per maturare l'idea di scrivere questo libro che si chiama la fuga che è un'idea quella della fuga che credo che in questo periodo abbiamo avuto tutti quanti sì 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 poi ecco bisogna vedere dove fuggire perché non è così semplice per cui in molti e restiamo qui e cerchiamo di fare quello che che possiamo ma allora l'idea mi è stata proposta da un editore che normalmente fa riviste altre cose ha iniziato una una collana anche narrativa mi ha detto ma senti prova a immaginare come potrebbe essere il nostro mondo fra 30 40 anni se tutti questi progetti andassero in porto siccome ho studiato diciamo il la progressione della politica ambientalista a partire dal club di roma del 1972 e altri diciamo di altri aspetti di questo genere potevo provare a accingermi a questa a questa simulazione ecco di fatto è una simulazione una prova di immaginazione per capire come potrebbe vivere una famiglia normale una famiglia nel quotidiano fra 30 40 anni in questo caso in una milano perché io vivo nella zona di milano del 40 anni e conosce tutto questo andasse in porto per cui ho immaginato un sistema di di crediti un sistema di obblighi un sistema di obblighi anche a sottoporsi a sperimentazioni farmacologiche o bio ingegneristiche no perché tutto quello di cui di cui si sta parlando nel corpo di una famiglia di quattro persone ho immaginato la vita di queste quattro persone dentro una milano nella quale tutto questo si è attuato c'è un sistema colori di crediti a una certa complessità io l'ho mutuato da quello che che leggo che vorrebbero fare non un po dalla dalla cina un po da sogni o incubi di futurologi che invece amano molto questo tipo di sviluppi e ne è venuto fuori effettivamente provando a immergersi in questa realtà futura effettivamente una realtà di vita quotidiana piuttosto invivibile con delle differenze di diciamo di classe grandissime quindi pochissimi pochi ricchi un certo gruppo di persone che vive attorno ai ricchi è una massa di persone che deve sottoporsi a password crediti scansione dell'iride eccetera eccetera riscrittura della storia la scuola che diventa un programma di riprogrammazione mentale sociale psicologica culturale eccetera e e questo è abbastanza agghiacciante poi effettivamente prime 200 pagine del libro parlano di questo credo che sia tutto abbastanza credibile non nel senso che se tutto questo andasse in porto quella potrebbe essere la realtà una milano spenta una milano dove dove iniziativa privata è quasi stata pressoché cancellata dove ci sono le multinazionali e così via e poi ho immaginato comunque che questo sistema tu fermami quando credi che questo sistema comunque comunque anche se fosse attuato avrebbe delle grandi criticità delle estreme criticità sarebbe costosissimo da mantenere sarebbe costosissimo da mantenere la obbedienza di tutte queste persone e quindi ci potrebbero essere delle aree nelle quali il sistema non funziona delle aree periferiche sotterranee ai margini nelle quali questo sistema non funziona e quindi si potrebbero creare delle 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 sacche di resi chiamiamoli resistenti comunque di persone che non ci stanno e questa famiglia ha la possibilità di entrare in uno di questi gruppi che non vengono considerati non vengono schiacciati nemmeno dal potere perché economicamente non è non valgono quindi si ricrea una sorta di società parallela questo perché perché una fuga perché al momento le forme democratiche della partecipazione democratica partitiche ad esempio sembrano veramente ingessate anzi direi congelate quindi io guardo con con favore anche ai tentativi di partiti piccoli partiti che stanno cercando di organizzarsi al di fuori diciamo di quello che si può considerare l'arco costituzionale ma soprattutto nella fase attuale quello che potrebbe succedere nei prossimi anni di quelle delle guerre indotte volute è veramente difficile poter immaginare una una vita democratica così come la conoscevamo credevamo di conoscerla negli anni precedenti e quindi e quindi da lì la fuga ecco però speriamo davvero di non arrivare a questo punto e di poter fare qualcosa prima perché comunque la coscienza media riguardo a questi temi si sta si sta ampliando la vostra casa del sole lo dimostra come altre iniziative di questo genere infatti tutti tutti lo abbiamo pensato forse alla fuga ma molti di noi hanno deciso che assolutamente è necessario restare qui perché se no come è stato in passato se tutti scappano è chiaro che chi chi il potere ha più facilità ancora a controllare tutto ma può essere che questo sistema sia stato pensato immaginato per una popolazione molto ridotta rispetto a quello perché appunto come tu mi dici non è sostenibile per sette miliardi di persone forse però per un miliardo o meno sì sì allora certo è una fuga ma è una fuga poi che li riporterà dentro ecco questo perché li riporta dentro un po alla fine a come dire a lottare eccetera quindi è una fuga con una sorta di ritorno sì certo certo e qui la nostra fantasia preoccupata può galoppare abbiamo tutti i motivi per sospettare che certe pandemie certe politiche soprattutto sanitarie che si stanno attuando ultimamente con il fatto che gli ospedali o le case di cura siano diventate un po terra di nessuno comunque è difficile accedere a questi luoghi sempre più difficile allora abbiamo il sospetto che si stiano attuando delle delle politiche diciamo così di di eugenetica dolce o comunque di diminuzione della della popolazione attraverso una migliore minore somministrazione di di servizio sanitario una minore efficienza del sistema sistema sanitario che porta una mortalità maggiore e quindi temo di sì questo del resto è nei progetti scritti nero su bianco da decine di ideologi a partire va bene senza senza partire da dagli inizi del secolo ma se uno già legge i documenti della conferenza di stoccolma club di roma del 72 oppure di rio oppure del protocollo di chioto oppure del degli accordi di cancun insomma tutto quello che è stato fatto dal 1972 al 2015 quando hanno messo nero su bianco la gente a 20 30 il sospetto viene ed è fortissimo che si diminuisce i co2 diminuendo la popolazione facendola invecchiare facendola morire e non assolutamente incrementando politiche di diciamo familiari di aiuto alla famiglia di fatto poi l'umanità quando è aumentata di numero ha sempre trovato delle soluzioni anzi lì si sono avute delle innovazioni importanti nell'agricoltura e quindi diminuire la popolazione ci porta anche ad un sicuramente a una minore creatività dal punto di vista tecnologico quindi sì sospetto c'è pensiamo tutti alle georgia guidestones sarà anche qualcosa di io ho fatto una storia delle georgia guidestones anche si capisce chi le ha fatte chi le ha edificate se sono state smontate ma insomma sono idee che ci sono in certi ambienti è detto in modo chiaro abbiamo avuto anche dei ministri come cingolani che fa parte di un gruppo sulla famiglia di i fisici e cioè che l'ha detto chiaramente no basandosi su algoritmi poi insomma ha trovato fuori le giustificazioni la terra è fatta per un certo numero di miliardi di persone quindi abbiamo tutti i diritti di essere vigili e sospetti assolutamente sì e dobbiamo continuare ad esserlo fra l'altro non troppo lontano da noi in olanda il primo ministro ha appena proposto una legge che impone alle banche di registrare tutte le transazioni superiori tutte le contravendite superiori a 100 euro a in questi giorni pensi che succederà anche in italia una cosa del genere quanto tempo passerà allora lì noi stiamo assistendo ad una sorta di tira e molla nel senso che alcuni governi diminuiscono la soglia della tracciabilità delle tante delle sanzioni altri l'aumentano siamo un po un gioco delle parti adesso probabilmente il governo che che è stato votato in italia allenterà un pochino poi ne arriverà un altro che diminuirà però insomma la via della abolizione del contante e della tracciabilità assoluta sembra avviata e nello stesso tempo in italia abbiamo un eni che è un ente che è stato creato per creare diciamo per favorire il benessere di questa nazione poi hai fatto uno studio su enrico mattei o so che hai sì io ho fatto ciò conferenze comunque conosco il personaggio la storia dell'eni straordinario personaggio e questa eni è andata in olanda a una sede fiscale in olanda e sta facendo dei degli utili stratosferici tradendo tutti i principi su cui l'eni è stata costituita da a partire diciamo da dal volere non solo di mattei ma di quelli che lo stavano appoggiando in quel tempo che erano dei gasperi erano vanoni erano altri e sembra tutto piuttosto piuttosto indotto anche questa crisi energetica aggravata dalla guerra una guerra che io ho visto recentemente un'intervista giudietto chiesa visto che appunto siamo anche un po in casa sua no idealmente del 2015 che è impressionante perché lui aveva esattamente previsto quello che sarebbe successo quindi non c'è niente che sta accadendo per caso giudietto e margherita hanno fondato pandora tv è certo proprio quando ci sono c'è stato il colpo di stato in ucraina e proprio per portare a conoscenza delle persone quello che stava succedendo quindi si aveva previsto assolutamente tutto ora tu un po mi hai già anticipato ma il grande fratello qui è sempre più potente sì e abbiamo visto il popolo italiano che si è spaccato a metà durante la dichiarata pandemia con scene veramente raccapriccianti ora un po lo hai già detto ma dal tuo punto di vista c'è da aspettarsi qualcosa di positivo da questo governo uscito da queste elezioni terrificante sti terrificanti ed estive sì estive appunto indette a luglio per settembre cosa mai vista cosa veramente mai vista una vergogna va bene insomma adesso qui mi limito mi devo un po limitare ma certamente per tutto quello che hanno promesso qualcosa dovranno fare qualcosa dovranno fare io non so sulle sulle bollette sulla politica energetica cosa possono fare dovrebbero far debito e ce lo impediscono altre nazioni perché noi siamo cioè in italia l'italia è sotto la germania che è sotto la francia sotto la germania diciamo e poi e poi abbiamo altre forze che che ci tengono sotto il tallone per cui la margine di manovra di tutti i governi italiani da 92 in poi soprattutto quando c'è stata tangentopoli è ridottissimo è ridottissimo l'abbiamo visto perché vari governi hanno promesso per esempio una riduzione del insostenibile diciamo insostenibile carico fiscale ma nessuno l'ha mai fatto per cui evidentemente ci sono dei dei vincoli che noi non conosciamo e che ci impediscono di di fare qualcosa in questi termini però c'è un gioco delle parti quello come si dice del poliziotto buono del poliziotto cattivo adesso c'è quello che per certi versi potrebbe essere definito il poliziotto buono nel senso che nel campo del punto del contante nel campo della di certe libertà green pass potrebbero allentare ma non credo che possano fare più di tanto qualcosa potranno fare ma non non molto su questo non sono molto ottimista personalmente sono una cosa di cui mi sono reso conto in questi anni se non se non abuso del tuo potere posso del tuo scusa del tuo potere diciamo di farmi parlare quindi del tuo tempo e quindi aggiungo una cosa in più siamo qui per questo quindi va perfetto quello che mi fa piacere è vedere avere aver visto dei gruppi formarsi dei gruppi diciamo pure solidali che si riuniscono che si sono riuniti anche sotto la pandemia anche di centinaia di persone che hanno affittato interi capannoni o faccio parte di gruppi di questo genere e che hanno continuato la loro vita come prima e anzi si sono conosciute molte persone con una volontà ferrea di resistere a tutto questo io ne ho conosciute tantissime giro faccio conferenze faccio le mie cose e questo prima non succedeva prima forse la società era un po più addormentata poi nel momento in cui arriva la sberla o il colpo in testa uno si sveglia e stanno nascendo anche tante comunità anche anche significative con dei bei numeri sì 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 posso confermarlo posso confermarlo e le perché le vedo quasi settimanalmente con i miei occhi e questa è una grande speranza è una grande speranza non tutti si bevono questo sistema mediatico comperato minacciato ricattato non sappiamo che propala falsità e menzogne diciamo pure vogliamo essere ottimisti al 90 per cento di quello che dicono forse anche di più qui c'è chi c'è chi ha ancora uno sguardo critico sulla 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 realtà riguardo a tutto per esempio alla transizione ecologica insomma chiunque abbia un minimo di conoscenze storiche sa benissimo che nel corso dei secoli dei millenni delle decine di migliaia di anni se poi si entra nel campo scientifico le variazioni climatiche sono state continui continui quindi questo potrebbe rientrare in un quadro assolutamente naturale ho avuto l'avventura di parlare con il massimo climatologo italiano che ha questa idea e la ripete ma dice adesso nessuno mi ascolta più uno che ha avuto anche è stato anche in odore di nobel ma siccome lui ha questa idea che tutto questo è piuttosto naturale non lo fa più parlare in ogni caso se anche ci fossero dei problemi come forse ci sono certo è che vengano sempre strumentalizzati quello che stanno facendo non ha niente a che fare con l'ecologia e nemmeno con i problemi climatici perché l'industria militare statunitense produce più co2 di vari paesi europei industrializzati quindi di che cosa parliamo assolutamente ci sono alcune ultimamente putin parla molto e ha fatto dei discorsi anche molto significativi uno degli ultimi che ha fatto al valdai club ha detto che nessuno può stare al riparo dalla tempesta in arrivo secondo te stiamo davvero andando verso uno scontro fra civiltà si è nel senso che qualcuno l'ha voluto la qualcuno l'ha voluto ci sono dei think tank anglo americani diciamo così atlantisti che teorizzano da decine da anni mi sono impressionato leggendo dei delle storie della della guerra fredda che ho qua dietro insomma dove già queste cose erano abbastanza evidenti 50 60 anni fa quella è chiamata l'isola mondo noi conosciamo credo molti conoscono le teorie di mckinder le teorie secondo cui chi governa con la zona del mondo governa il mondo e questo scontro si c'è non c'è da oggi perché se ne trovano tracce già nell'ottocento di fatto il regno delle due sicilie è caduto nel momento in cui è incrementato i suoi rapporti con la crimea e con facendo entrare le navi graniere dalla dall'impero russo del tempo cosa che non è andata giù agli inglesi cioè è qualcosa che continua da esista sempre più intensificando peraltro io sono abbonna abbonato da una quindicina d'anni a un bollettino di diciamo previsioni si chiama geab eccetera adesso non sto a fare pubblicità comunque molto valido che aveva evidenziato come nel 3 2020 e 2030 ci sarebbe stato un passaggio fra il mondo unipolare al mondo multipolare quello che stiamo assistendo è una transizione che ha moltissime implicazioni nel campo della dell'energia nel campo del del dollaro del predominio delle valute e così via quello che a me fa paura ma insomma comunque le cose possono cambiare è che da parte nostra diciamo tra virgolette sembra che ci sia un fanatismo che dall'altra parte non c'è e questo perché se uno ascolta i discorsi del presidente putin sente del del buon senso sono dei discorsi assolutamente condivisibili e anche e anche sente intravede dei valori religiosi spirituali direi anzi non religiosi spirituali interiori che dovrebbero essere propri proprio dell'occidente direi che che erano dell'occidente non lo sono più certo assolutamente questo uomo fa lo dipingo noi stiamo poi ecco assistendo ma adesso questo avviene soprattutto dal 2015 ma anche prima da quando anche prima nel 2000 ha tolto il giocattolo in mano gli elsin eccetera conosciamo la storia adesso non sono qui per per rifarla e da allora viene dipinto come un pericoloso dittatore ma non è un dittatore viene eletto il sistema russo è diverso da quello dei paesi europei ma adesso quello dei paesi europei soffre di una mancanza di democrazia di rappresentatività credo superiore a quello russo perché io l'unione europea la chiamo unione sovietica europea da un po di anni senti io vorrei chiudere chiedendoti cosa pensi di quest'altra frase che ha detto di nuovo putin sempre al valdai club pochi giorni fa putin si è chiesto dove viviamo perché se un paese può decidere di uccidere un generale dell'esercito come è successo in iran con il generale solemani per esempio quali garanzie di sicurezza abbiamo quali qual è la democrazia di cui tutti parlano e cosa ne pensi perché forse ecco anche il tema del tuo libro la fuga riguarda anche riflessioni di questo genere sì un altro fatto infatti impressionante insomma che a cui stiamo assistendo e che valutiamo che cerchiamo di comprendere e che sembrano saltati molte regole internazionali che avevano governato non dico l'armonia ma comunque la non belligeranza tra gli stati e le torri gemelle forse a questo sono servite eh sì c'è proprio anche un grande simbolo perché sono due pilastri caduti quindi sì 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 esatto allora per esempio l'onu dove è finita l'onu l'onu una volta aveva delle famosi caschi blu che andavano dappertutto e cercavano di mettersi fra i contendenti e spingevano gli stati a andare a un tavolo di negoziato e tutto questo noi non lo stiamo vedendo più in questo caso specifico della guerra in ucraina perché perché non devo dirlo a te o non devo dirlo lo sappiamo benissimo insomma lì è stato tentato prima un colpo di stato nel 2004 una rivoluzione colorata poi poi è riuscita dieci anni dopo ci sono interessi enormi in gioco ma non si va a giocare sotto il cortile di una superpotenza nucleare non si fanno queste cose la gente lo deve capire cioè non non è una questione di buoni o cattivi era una questione di dinamiche internazionali che sono state fatte saltare e questo è pericoloso è pericoloso per anche per le nostre libertà oltre che per la guerra che probabilmente si trascinerà per anni almeno insomma almeno per un altro anno credo quindi comprendo benissimo ecco quella quella domanda rettore che tipo di mondo è questo nel quale si possono uccidere le persone in questo modo perché per esempio un esempio a me fece così mi incuriosì il fatto che il il capo della manutenzione del nord stream 2 che era un tedesco si è precipitato con il suo aereo con la moglie il figlio e la fidanzata mi parla quattro morti che hanno inventato tutta una storia l'aereo fantasma non c'era nessuno nel probabilmente sono stati buttati giù non lo so e lì mi sono chiesto una cosa sta succedendo poi abbiamo poi l'abbiamo saputo ora sappiamo che tutte queste questo come dire fair play internazionale fra potenze è saltato quindi è un mondo feroce più feroce di quello del passato probabilmente perché su scala maggiore per cui queste preoccupazioni le sento anche mie certo assolutamente sono state espresse molto bene peraltro da una persona che non pare affatto essere il grande dittatore stile hitler no assolutamente no assolutamente era un altro tipo di era tutta tutta un'altra cosa ma la realtà è un po rovesciata adesso i nazisti di a zon sono andati negli stati uniti in un tour con i congressisti statunitensi sia repubblicani che democratici il mese scorso sì 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 ma se posso aggiungere una cosa adesso questa è una curiosità esisteva un sito una grande chat frequentata credo da milioni di persone che si chiamava storm front anni fa e che era frequentata da persone come come dire che si definivano di estrema destra no e i nazisti ucraini erano tantissimi alla fine è stato chiuso questo è successo 4 5 anni fa è stato chiuso perché quello che si diceva era troppo estremo e allora e adesso invece fanno i tour adesso fanno i tour sono nello stato maggiore no anche certo certo ma questo fatto forse ne possiamo anche parlare un'altra volta ha delle radici storiche visto che già i nazisti dalla germania sono stati esportati negli stati uniti alla fine della guerra e hanno contribuito alla costruzione alla costruzione di tante agenzie di sicurezza anche quindi direi che ci sono radici storiche grazie per le tue risposte mario ci vediamo sicuramente una prossima volta molto interessante ciò che hai detto sul conto sulla questione storica delle due sicilie con il grano proveniente dalla crimea e magari ne possiamo parlare un'altra volta grazie per le tue risposte grazie a te ciao